I nostri piccoli sono educati ad essere solidali, partecipi e a fare qualche cosa che possa aiutare chi ha bisogno. In questo caso la rete che si è creata con anche i genitori, le mamme, i bambini e il loro orgoglio che vedete lì è proprio dire possiamo fare qualcosa anche noi in questa cosa grande grande che è così lontana ma che invece con un pezzettino di ciascuno di noi possiamo provare ad aiutare per risolvere. La generosità si impara da piccoli e di bimbi della materna lo scogliattolo e del nido il girasole di Civitella ne hanno già fatto tesoro. Sono stati infatti proprio loro a donare uno spirometro all'adegenza covid di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Si tratta di uno spirometro, uno spirometro che è uno strumento che permette di misurare la funzione dei polmoni, la funzione respiratoria e ovviamente ha un'importanza notevole non soltanto per il periodo attuale covid per vedere gli esiti di questo tipo purtroppo di polmonite ma anche per valutare la salute respiratoria. Una raccolta fondi alla quale ha collaborato anche il gruppo sportivo Revolution Runner.